Rogo nella notte all'interno del parcheggio di via Marsala a Gela, due automezzi e parte di un cestello della Gelas Multiservizi, società che opera per conto dell'amministrazione comunale. Indagini sono state avviate dai carabinieri. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, con una nota inviata alla stampa, esprime la sua indignazione. La vigliaccata consumata ai danni di tre mezzi della Gelas Multiservizi non è soltanto un mero danno materiale alla collettività, ma è la metafora di una coscienza civica incenerita dalla spocchia e dalla inferiorità umana di chi vorrebbe trascinare con sé tutta una città dentro il baratro dell'inconsistenza morale, dice il primo cittadino condannando l'ultimo gesto consumato contro la società partecipata del comune che si occupa di servizi amministrativi sociali e di manutenzione. Confido nel lavoro degli inquirenti affinché siano individuati e puniti i responsabili, ha continuato il primo cittadino. Auspico contestualmente un modo di indignazione generale da parte di tutti i gelesi onesti che non possono continuare ad assistere impotenti a questo stilicidio subculturale. Quest'azione indegna, oltre che sui contribuenti, avrà ripercussioni sulla mole di servizi per il decoro urbano che abbiamo attivato in vista dell'imminente stagione estiva. Di questo ci scusiamo ma fino a quando non ci sentiremo tutti parte di uno stesso corpo sociale, ha concluso Messinese, Gela sarà sempre più vulnerabile ad un'ignobile minoranza che offende il vero nome della città.